Siamo alla pista di atletica di Città di Castello con il nostro discobolo preferito Giovanni Faloci appena tornato dalla Polonia dove si sono svolti i campionati europei a squadre dove l'Italia ha ottenuto un quarto posto ma per noi è importante anche il quarto posto ottenuto da Giovanni Faloci. Com'è stata questa esperienza? Una bellissima esperienza e già nell'aereo e nell'andata sentivi il clima della squadra perché sia i dirigenti che noi atleti avevamo capito che là ogni punto era importante quindi tutti gli atleti hanno dato il 115% quindi davvero una bellissima esperienza che spero di poter condividere un'altra volta fra due anni quando ci sarà. Noi con la squadra diciamo è andata benissimo perché abbiamo fatto il risultato mai fatto in Italia però peccato perché per mezzo punto era il terzo posto quindi mezzo punto è un punto vabbè ma mezzo proprio Da fastidio A carte ferme da fastidio, lì per lì già capisci che sei quarto, eri secondo, eri terzo, hai lottato fino in fondo Poi certo arrivi quarto per mezzo punto, dici arrivi quarto per cinque sei punti dicevo era impossibile per mezzo punto capisci poi che era nettamente una cosa alla portata per tutti Una bella squadra quella della nazionale italiana che abbiamo avuto modo di seguire anche grazie a te con le tue dirette Su Instagram i tuoi messaggi vediamo che l'atletica a livello nazionale si sta veramente risvegliando anche a seguito degli europei under 20 dove appunto i giovanissimi atleti italiani hanno riportato numerose medaglie anche molto importanti questa è una cosa positiva, una nota di merito per l'atletica Sì sì sicuramente molto molto positiva perché noi siamo grandi assoluti e bene o male siamo tutti sopra ai 25-26 anni quindi è bene che dietro ci sia chi fra qualche anno ci darà il cambio o magari ci rubi il posto anche prima quindi perché ovviamente la nazionale assoluta si lotta e una volta che sei là cerchi di dare il massimo perché non è che ci accontentiamo cioè abbiamo quella maglia e quando te la sei guadagnata non è che ti accontenti Non è per sempre? No no è sempre a rischio nel senso che dietro c'è subito chi è che cerca di togliertela La gara appunto in Polonia è andata bene, ti sei sfidato con i più grandi lanciatori del mondo che ritroverai presto? Sì ci ritroveremo a Doha e quindi sulla nostra serie c'era proprio il primo Stal poi c'era lo spagnolo che è terzo se non sbaglio quarto al massimo al mondo quindi una serie diciamo molto aggressiva il tedesco sarà quinto, l'inglese settimo quindi al mondo sto parlando quindi direi atleti molto quotati Comunque nella top ten abbiamo anche Giovanni Faloci, ricordiamolo A questo punto sì perché quelli che nella carta erano davanti sono stati abbastanza dietro quindi fa bene sperare per Doha nel senso che là non solo i numeri e le carte parleranno ma parlerà una nuova gara e quindi saremo tutti là se si riparte da zero cioè i numeri e le scritte ormai sono vaci per arrivare là ma là scriveremo qualcosa di nuovo Giovanni non ti fermi mai, sei appena tornato dalla Polonia iniziamo subito gli allenamenti per i mondiali di fine settembre parlavamo prima dell'intervista di vacanze mi ha detto che non te le puoi permettere perché appena tornerai dai mondiali avrai un nuovo obiettivo Sì perché i mondiali sono il 28 la qualifica l'eventuale finale il 30 di settembre quando tornerò sarà l'1 o il 2 di ottobre teoricamente la preparazione riparte perché il prossimo anno sarà un anno molto molto importante con le olimpiadi a inizio agosto e gli europei a inizio settembre quindi le vacanze le faremo nel 2021 c'è tempo, c'è tempo concludiamo dalla pista di atletica Giovanni oggi non c'è praticamente nessuno che sfida il caldo siamo nella settimana di ferragosto ti alleni da solo però i grandi atleti fanno così la settimana prossima ricomincia il gruppo immagino e poi riparte tutta la programmazione dell'atletica Libertas in generale sì sì sicuramente dal 2 settembre saranno tutti in pista alle 3 del pomeriggio tutti in pista con lo staff dell'atletica Libertas quindi avrò pochi giorni da temere nel senso che sarò poco da solo sicuramente gli altri ragazzini saranno anche prima però Paolo e Ugo che saranno qua dal 2 settembre a tutte le ore loro dicono che hanno gli orari ma non li hanno dalla mattina alla sera tutti i piccoli fan di Giovanni ovviamente speriamo così crescono Giovanni ti ringraziamo in bocca al lupo e ci rivediamo a ottobre grazie a tutti i piccoli fan di Giovanni